Cosa vi siete persi? Se fosse stati qui stasera mi avreste sentito parlare di due scrittori che non sapete essere scrittori, nel senso che sono due personaggi che vengono qualificati in altri modi di solito sono anche due eccezioni Vittorio Gasman è forse l'unico attore davvero colto e davvero scrittore che mi venga in mente almeno nel novecento italiano adesso si offenderanno tutti gli altri e Susanna Agnelli è una miliardaria intelligente cosa che in genere i miliardari di seconda terza generazione non sono in genere il denaro se l'hai fatto ti ha reso abbastanza sveglio e consapevole ma se lo erediti non tantissimo invece in Vestivamo la Marinara di cui vi faccio vedere la copertina come fosse un prosciutto in vendita perché tanto quello stiamo qui per fare ed è inutile che fingiamo che i libri non siano prosciutti Vestivamo la Marinara è un memoir che lei scrive poco più che cinquantenne ma che racconta la sua vita solo fino ai 25 anni cioè finché si è sposata e quindi racconta l'infanzia forte dei marmi ma soprattutto racconta la seconda guerra mondiale la seconda guerra mondiale durante la quale lei aveva un flirt con un ragazzo che era attendente di un generale per cui vede la guerra molto da vicino era amica di Galeazzo Ciano e tutto questo riesce ad avere un tono difficilissimo cioè un tono che è feroce ma anche affettuoso e quindi quando io dico che Vestivamo la Marinara secondo me è uno dei più grandi romanzi del novecento la gente in genere sbarra gli occhi e pensa che io abbia preso una botta in testa cadendo da una seggiola a poc'anzi o cadendo dal seggiolone da piccola e invece io sono convinta che sì che Susanna Agnelli sia una scrittrice e Vestivamo la Marinara sia un grande romanzo anche se in realtà è un'autobiografia come lo è un grande venire dietro le spalle che fra l'altro ha in comune come stiamo la Marinara all'avere un grande titolo cioè sono due titoli pazzeschi sono due titoli che io darei un rene possibilmente vostro per aver concepito un grande venire dietro le spalle è il primo dei libri autobiografici di Galsman che poi ne scriverà altri uno in forma di romanzo che si chiamava Memorie dal sottoscala e che faceva quindi il verso Memorie dal sottosuolo di Dostoevsky e nel quale c'era una conversazione sapete quando imparate delle cose dai piccoli dettagli marginali ecco io ho imparato da quel libro di Vittorio Galsman e quindi da Vittorio Galsman a non chiedere mai l'anno di un quadro perché lui è a una festa in una scena di questo libro e qualcuno chiede di che anno è quel Dorazio e lui risponde cosa conta l'anno scemo chiedi semmai di che pomeriggio di che umore di qual grado di disperazione che effettivamente è vero cosa conta l'anno in un anno cambiano tantissime cose una cosa scritta da me quest'anno non vuol dire niente una cosa scritta da me in un pomeriggio in cui piove è molto più significativo sapere che è stata scritta allora e quindi tutto questo non c'entra assolutamente niente con Un grande avvenire di dietro alle spalle che è il libro di cui vi avrei dovuto parlare ma come dice una mia amica di Vago perché ho letto Proust da giovane